Amici, ma c'è Sorvento, buongiorno, siamo tornati più forti di prima, benvenuti all'hotel Gardena. Eccoci entrati nella stanza, sentite subito questi versi tipici di Sorvento, che sono degli animali particolari, che sono? Ma chi è qui? Oh, ma sto facendo l'amore, se ne vada! Ma chi è l'amore che sta da solo? Ma come si sono fatti i miei, se ne vada! Siamo al quarto piano dell'hotel Gardena, ragazzi, questa è la terrazza e da qui si può ammirare uno dei punti meravigliosi, scusa, disposti? Sto facendo una forma, ma per cortesia sto facendo... Amici, ma c'è Sorvento, buonasera, stasera proviamo, terrazza, sirene, ragazzi, guardate che meravigliosa location. Ragazzi, guardate che vista meravigliosa del Golfo di Sorvento, qui da Ristorante, terrazza delle sirene, ci hanno preparato un aperitivo, adesso lo gustiamo, grazie al nostro chef, grazie. Ma questo è il mio, ma chi? Marti, ti sta piacendo la focaccina? Ma non sono Martina! Amici, è appena arrivato un antipasto a terrazza delle sirene, guardate qua ci abbiamo un tonno tataki, noi poli, poi il calamaro, mamma mia ragazzi, non vedo l'ora... Ma che non vediamo, ma questa è la mia ragazza, per favore, te ne vai! Ragazzi, sempre qui a terrazza delle sirene sono arrivati i pini, abbiamo un tagliolino, un risotto e dei vaccheri, Marti! Ma come ti vuoi? Marti, amore, posso passarti un po' di questa Franciacorta? Questa non è io, ma per cortesia se ne vada! Ragazzi, allora, quanto costa una cena a terrazza sirene con tutto quello che avete visto, che abbiamo mangiato e bevuto? A te non costa niente, perché ho pagato io, si trocca tutta la roba da me! E' un prezzo veramente ragionevole, signori, alla prossima, grazie! Amici, mi faccio il salvento, buonasera, guardate, stasera da Simona al restaurant, ragazzi, stiamo per entrare, guardate qua, tutta la pasta, anche qua, anche qua, pasta! Amici, non può mancare, arrivati a questo punto, la carbonara, ragazzi, guardate qua, tutta questa carbonara, questa pasta fatta a mano! Marti, Marti, mi fa assaggiare un po' della tua carbonara! Pronto, 112! Amici, mi tocco il primo, adesso ancora un altro primo, però questo primo è dolce, un spaghetto, un cioccolato, un regatone, un dipino! Scusa, mi passi questo meraviglioso caffè, ragazzi, ma che caffè, guardate, è un tirami su, ti piace, te ne metto un po' a te, eh? Vuoi? Ma io è questo! Amici, ma già sopprento, non c'è cosa migliore di andare a fare una doccia con la vostra dolce metà! Marti! Marti, 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 Marti!